Nella terza puntata di Belve, talk condotto da Francesca Fagnani in onda in seconda serata su Rai 2, è sbarcata Floriana Secondi, vulcanica vincitrice del Grande Fratello 3 nonché ex opinionista dei Salotti Timonati da Barbara Dur. La donna ha anche partecipato all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, senza lasciare il segno. Lo ha lasciato invece a Belve, dove, chiacchierando con la Fagnani, ha chiarito diverse vicende che l'hanno coinvolta in passato a livello mediatico. A un certo punto la giornalista alla guida del programma, come ad ogni ospite, ha domandato di narrare una belvata, e Floriana ha raccontato della volta che arrivò alle mani in un locale pubblico con Manila Gorio, altro personaggio che ha popolato per anni i Salotti, Dursiani. La vicenda che vide protagonista Gorio e Secondi fu fatta trapelare da Novella 2000, che immortalò le due in un ristorante mentre litigavano. E a un certo momento ha ricordato la Fagnani siete finite a botte. Io vorrei leggerle quello che ha detto di lei Manila Gorio. Lei mi ha staccato una bella ciocca di capelli e ho ancora i Salotti. Floriana è andata fuori di matto e mi ha insultata facendo anche riferimento al fatto che sono una trans. Mi ha colpita e io e la mia amica siamo scappate. Lei ci ha seguite anche per strada. Ci siamo calmate solo a casa quando ci siamo fatte una camomìa. Floriana. Che ha ben pochi peli sulla lingua. Naturalmente non si è sottratta alla domanda. Anzi ha tenuto a dettagliare la sua versione. Con un discorso infarcito di, romanesco. Diciamo com'è andata. Io l'ho colpita sì. Ma all'inizio con un fazzoletto. Cioè con un tovagliolo. Ci penso bene quando alzo le mani. Perché? Fidate. Che so pesantucce le mie mani. Le ho dato addosso con un tovagliolo e lei mi ha lanciato addosso una forchette. Per questo motivo io dopo l'ho rincorsa. Sì è anche vero che l'ho tirata per i capelli. Ma perché lei correva e io la volevo riprendere. Ma quale grossa ciocca da capelli. Du peli ci aveva. Quei quattro peli che si ritrovava. Ma quali ciocche. Se so pentita? No. No. Lo nume pento. Questa è la cosa brutta mia. Io. Quando vado. So decisa e non faccio prigionieri. Ho pensato a questa cosa della forchetta lanciata. Non lo doveva fare. Ha sbagliato. Non ho iniziato io. Lei mi ha fatto fuori da un programma in cui lavoravo da cinque anni.